se pensi che l'eft sia la soluzione a tutti i tuoi problemi sei rimasto indietro di vent'anni sul mio lavoro ciao a tutti sono lo zioac di migliorati.org e lo ribadisco qui dove l'ho detto più volte nel sito ma siccome vedo che spesso la ricerca principale sul blog ecnews.net guardalo sui sui miei vari canali sul mio blog è sempre ftft la gente pensa a quegli nomi ai clienti che la soluzione a tutti i problemi sia nelle ft in questa tecnica magica che ho appreso vent'anni fa non col suo nome la prima volta perché stavamo facendo un corso e c'era questo trainer di una scuola italiana di quelle che camminano derivate da anthony robbins è una delle tante e aveva questa tecnica chiamava super tapping presentata da adesso non posso far nomi perché poi cosa era una cosa assurda e però sotto certi aspetti un pochino funzionava e ce l'ha dimostrata e lo ringrazio ancora oggi poi approfondito e scoperto il vero nome della tecnica originaria e che nessuno in italia l'aveva presentata in video col suo vero nome con la col con le tecniche eccetera l'ho ordinato i video i dvd che ho ancora nella mia libreria in montagna anzi devo qualche giorno filmerò su instagram zio h a c k seguitemi lì qualche giorno filmerò il riordino di quella libreria pensionerò anche quei dvd comunque ordino da gary craig quei dvd faccio le prove e con mio stupore devo dire perché la tecnica era strana quella delle ft era diversa dalla pnl dalle tecniche conoscevo ha funzionato e quindi ho iniziato a metterlo in video nei corsi a fare dimostrazione vere dal vivo dove il più stupito del risultato ero quasi sempre io perché come dico sempre sono scettico di base ma non di mente chiusa quindi provo cose nuove ma sono scettico al punto che credo di essere la rincarnazione di san tommaso e quindi ha funzionato e l'ho modificato nel 2014 con quello che ancora la nostra versione quella che usiamo nel neuro coaching delle ft ufficiale quello che usiamo ancora di più appunto le ft del 2014 poi ho creato una versione più tra virgolette spirituale diversa nel 2017 2018 che funziona bene ma per qualche ragione l'ho usata meno e da allora non c'è stata molta innovazione nel settore da parte mia perché perché più semplice di quelle ft non ho trovato nulla fino ad oggi fino ad oggi quindi ho creato se vai sul mio sito migliorati.org trovi un percorso arancione dove ci sono tutte questo tipo di tecniche che io chiamo psn pulitura specifica delle negatività tanto per dare una sigla insomma è chiaro che il termine negatività è un po new age ma va bene così perché la maggior parte delle persone che cercano queste tecniche o sono psicologi e hanno loro la loro formazione perché tecnicamente queste tecniche si chiamano oggi psicosensoriali dove la parte psico vuol dire pensiero umore comportamento vuol dire la parte che c'è dentro di noi e sensoriale sono i sensi quindi si usa il tocco i movimenti eccetera e c'è l'eft c'è l'emdr che non sapete da dove nasce l'emdr nasce da se non sbaglio dalla sua dall'osservazione che ha fatto una persona mentre camminava che dopo aver camminato era più tranquilla e quindi hanno localizzato che era proprio il movimento oculare poi nel corso vi darò anche dei dettagli sulle differenti frequenze cerebrali relative sia al tocco che è la nuova tecnica che vi propongo che è più semplice appunto dell'eft e che al movimento oculare che è appunto l'emdr che non ho mai dimostrato proprio perché essendo entrata prepotentemente nel mondo del degli psicologi non voglio non vorrei in in pochi minuti rovinare dei corsi di tre giorni con certificazioni che fanno per per questo settore per cui me ne tengo alla alla larga è stata ampiamente trattata è molto semplice tratta di ricordare il cazzo non sto distruggendo no si tratta di ricordare una memoria traumatica e semplicemente guidare la persona a muovere gli gli occhi tutto tutto qui questa è la tecnica poi ovviamente come ogni tecnica il segreto di questo tipo il segreto è nel set and settings come si usava a dire negli anni settanta relativo alle droghe dell'lsd timo tiliri diceva set and setting quindi cosa vuol dire l'ambiente mentale e il modo in cui si propone il problema sono essenziali lì nel risolvero aggiungerei che una parte importantissima di queste procedure è anche la procedura finale come uno la fa perché può usare quella procedura per far sì che il paziente o il cliente o l'amica o il familiare che uno aiuta non solo non abbia più questo specifico problema ma che generalizzi il cambiamento e anche altre aree e eccetera quindi ho creato una procedura che secondo me è la una cosa più importante che ho creato sono la generalizzazione 7d e la procedura finale chiamata oppa l'ho chiamata oppa perché è un acronimo di le quattro cose che si fanno la procedura finale ma non voglio parlare di questo adesso voglio parlare che appunto da allora poi ho contattato gary craig gli ho detto senti ho visto che non hai in inglese ovviamente non hai il manuale in italiano è ok se te lo traduciamo e grazie all'aiuto se non ricordo male di silvana l'abbiamo tradotto l'abbiamo mandato a gary abbiamo messo in giro anche la versione italiana sul mio sito con dentro il mio link ancora lì e così è andata poi appunto l'ho modificato poi l'ft in un modo interessante e qui si apre una discussione proprio del fatto che se tu prendi una tecnica l'ft era derivato dal tft di roger callaghan e era una semplificazione cioè gary craig ingegnere ha detto va bene ma invece di avere 5000 procedure una per la paura una per questo tra l'altro derivate dalla medicina tradizionale cinese che ricordo che una medicina alternativa non scientifica quindi andrebbero testate tutte le cose alcune vengono e qualcosa è stato fatto alcune vengono trotte giuste altre no ecco qui quindi usa i discutibilissimi punti dei meridiani poi vedremo che però c'è una ricerca recente su questi punti poi nel corso la spiego ecco questa nuova tecnica ve lo dico già che si chiama la avening technique del di rona del dottore medico rona ruden e del fratello se non sbaglio si chiama steven ecco questa tecnica che ha dei copyright ma non è quella che insegno io attenzione io insegno una versione diversa perché poi provandola come gary craig ha visto che il tft era inutilmente complicato io ho visto che le ft era inutilmente complicato e poi anche gary craig l'ha semplificato come l'ho semplificato io devo aggiungere però poi la versione 2014 ho semplificato ulteriormente questo è per dire che non è che più una tecnica è complicata e meglio è ad esempio arrivano alcuni che cercano il mio articolo sulla psichei non mi dico neanche come si scrive perché è assurdo ma sulla psichei rispetto alla ft dico guarda il mio ft è molto più semplice quindi purtroppo nella mente di alcune persone soprattutto di stampo ingegneristico pensano ancora che più una cosa è complicata e meglio è assolutamente no più una cosa è semplice e meglio è ecco per molti anni quindi dal 2014 a oggi per sei anni non ho più rilasciato tecniche di quel tipo perché perché non c'è non ho trovato niente di più semplice delle ft oggi finalmente l'ho trovato era chiamata la psn 9 quindi la nona tecnica tra quelle che io ho selezionato come le psn le puliture specifiche della negatività più efficaci che appunto la tecnica della carezza l'ho chiamata carezzo carezzone dipende che contesto ed è proprio veramente facile però va fatta come sempre in modo giusto capendo il perché funziona capendo in questo caso è una tecnica che è una base scientifica ovvero è stata studiata scientificamente come funzionante sia nelle fmri nelle risonanze magnetiche funzionali come notare veramente un cambiamento della non struttura fisica ma della struttura comunque un cambiamento strutturale a livello di 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 movimento nel cervello e a livello e l'altra l'altro modo che abbiamo oggi più facile anche a livello encefalografico con le emissioni delle onde delta e nel corso vi parlerò anche di un aspetto interessante di questa ricerca che può essere applicato anche alle relazioni relative a le zone del corpo che accarezzate producono più onde onde delta e anche il discorso dei movimenti oculari quali sono le posizioni più adatte per le onde delta le onde alfa eccetera quindi non li chiamiamo più ai tempi erano per forza chiamate tecniche energetiche perché erano erano strane appunto venivano da un mondo strano non studiato oggi si chiamano tecniche psicosensoriali sono ancora non così strane però non c'è nulla da credere bisogna provare avere la mente abbastanza aperta a provarle e se funziona si può stupirsi eccetera ecco oggi sappiamo il perché il come funzionano in parte per rottura di schema così c'è pnl ovvero per depotenziamento sinaptico entrerò un pochino nella nella scienza diciamo che c'è dietro ma non troppo perché non è la parte interessante la parte interessante per noi come sempre la pragmatica quindi se funziona funziona e come fare quindi questo input sensoriale altera la parte psichica psicologica ecco non posso in questa introduzione gratuita sul blog non citare il fatto che che queste tecniche come dico sempre non debbono essere il primo intervento non sono la soluzione a tutto perché ad esempio è un errore comune che vedo che c'è gente che continua a fare nonostante l'abbia detto tanti anni fa è che se uno è ossessionato da un problema psicologico da un avvento da una cosa il circuito dello dell'ossessione che non voglio entrare adesso a livelli di neuroscienza perché non sono neanche qualificato per farlo però oramai ho deciso che la divulgazione è il livello più alto di qualsiasi scienza cioè dare alle persone degli strumenti scientificamente basati basati su ricerche basate su possibilmente sul livello più alto delle ricerche che è la meta analisi quindi la l'analisi di più ricerche ma la divulgazione è l'apice della piramide per quindi quando tu riesci a trasmettere agli altri qualcosa di scientificamente basato oggi perché oggi deve essere per forza così e utilizzabile nella loro vita da dare il massimo ecco però ci sono dei casi in cui uno ha un problema ricorrente in cui usa a un'ossessione per un determinato aspetto in cui il provare ciclicamente tutte queste tecniche psichei mdr e ft tutte queste tecniche psicosensoriali che ripeto ho fatto la mia classifica ne ho messe dentro nove che sono sono in ordine progressivo di semplicità anche se questo ad esempio la appunto la psn 9 carezza dovrebbe andare prima nell'ordine perché più semplice delle ft non è la via via giusta perché il circuito appunto dell'ossessione un circuito dopaminergico che funziona in modo diverso e quindi qualche caso si ottengono risultati ma in altri casi bisogna fare qualcos'altro e in generale l'approccio comunque di andare specificamente a una memoria un problema di avere questa assurda pretesa di ripulire completamente la mente subconscia o rendere tutto subconscio cosciente è assurdo è una follia è come prendere un secchiello e voler svuotare il mare come prendere un filtrino se volete lo stesso paragone vuole filtrare tutto il mare non lo possiamo fare con un filtrino ma possiamo in uno spazio limitato filtrare abbastanza acqua con magari dei robot delle macchinette robot radiocomandate che filtrano tutte insieme al punto che quella zona è abbastanza pulita poi sul pulito sporco è una metafora che ovviamente bisognerebbe discutere però il trucco è molto semplice quindi prima di tutto l'aspetto è la pulitura specifica si usa si usa solo dopo che si è abbassato il livello generale di stress avete visto la mia piramide biohacking che è semplicemente una gerarchia di priorità nel gestire il proprio benessere si parte dalla gestione dello stress punto uno che si è dimenticato anche examin.com che ha replicato la mia piramide senza la base bel lavoro comunque examin.com di kamal patel poi hanno messo appunto il sonno il movimento il sonno la nutrizione il movimento e infine la tecnologia e i supplementi che saranno sempre più importanti tanto più diventeranno efficaci e potranno agire a qualsiasi livello di quella piramide ecco perché li ho fatti un po staccati però la base deve essere una quella che io chiamo una pgn cioè una riduzione dello stress cronico continuo inutile e poi aggiungerei anche un uso a livello di base ma non vorrei complicare troppo questo discorso che molti di voi non sono miei clienti non riescono a seguirmi dell'uso ormetico dello stress in modo che non ci limitiamo a ridurre riduciamo quello cronico ma aumentiamo in modo strategico e progressivo quello acuto in modo da essere in grado pronti all'imprevisto imprevedibile e continuare a migliorare che è l'argomento che mi sta a cuore in tutte le aree importanti pippotto tremendo perdonatemi per dire che abbiamo una tecnica nuova che è una figata per calmare la migdala del resto è una tecnica logica che cosa fai a un bambino se è tra virgolette agitato traumatizzato perché la migdala oggi tra l'altro un altro argomento che mi sta a cuore è eccherata costantemente dalla quella che io chiamo la gerarchia delle proprio delle king della migdala che voi pensate che parta dai telegiornali dalle news eccetera che vi dico che non segue vi consiglio di non seguire ma siete liberi di farlo ma in realtà parte oggi dal tutti i messaggi virali quelli che vi spingono a condividerli su whatsapp sui social eccetera scandaloso certi blog anche forse più famosi in italia ho notato che è cambiato finalmente ma prima quando è iniziato e che erava molto la migdala con questa indignazione protesta eccetera che tanto cara i movimenti politici perché usando questi strumenti si induce un cambiamento ormonale del sistema immunitario sotto certi aspetti si fa un piccolo micro trauma encoding come si chiama tecnicamente nelle persone che fa prestare attenzione perché ricordiamoci che tutto il nostro hardware quindi il nostro la nostra mente eccetera la nostra attenzione è pilotata dalla migdala che filtra tutti i sensi e quindi se riusciamo a creare questo attivazione di questi di questo sistema limbico più andiamo a fondo diciamo nella struttura cerebrale più attiviamo lì e più riusciamo a avere attenzione vendere fare eccetera quindi ahimè questo sistema funziona e ogni tanto va va anche usato anche se non nel modo tremendo in cui lo vedo usare in certe psicosette online in cui inducono massicci stati alterati per poi vendere e comunque ricordate ogni volta che vi provano questa emozione così forte che dovete acquistare dovete condividere dovete vendere hanno effettivamente e chiarato la vostra amigdala chapeau complimenti proteggetevi e come si fa a proteggersi la base è costruire una pratica quotidiana di rilassamento meditazione chiamate come volete io ho registrato negli anni tanti esperimenti che potete fare per trovare i vostri non il vostro ma i vostri metodi preferiti e poi se è rimasto ancora qualcosa si va per con le psn appunto dopo le pgn le puliture generalizzate negatività che semplicemente è una pratica meditativa di qualche tipo magari un punto mirata dopo tanti esperimenti ecco che si va alle tecniche più specifiche e le tecniche più specifiche la più essenziale quella che abbiamo oggi dopo aver appunto provato movimenti oculari picchiettivo dell'eft eccetera qual è come come calmi un bambino come calmi un mammifero accarezzandolo quando un bambino agitato di solito o lo si culla o lo si accarezza e qui vorrei suggerirvi gratuitamente una tecnica che secondo me è appunto l'origine dell'mdr è gratuita la usavano anche i tempi nel bates che ve lo dico è stata forse la prima tecnologia che ho provato prima dell 86 forse quando stavo diventando miope quindi molto prima negli anni 80 per migliorare la mia miopia non volevo insomma non volevo mettere gli occhiali non l'ho neanche detto i miei però stavo diventando molto miope e non vedevo la lavagna e ho provato il bates con tutte le forze che non ha funzionato per me se qualcuno ha funzionato per lui lo metta nei commenti però non deve essere uno che vende corsi perché allora tenderei a questo punto crederci poco comunque ha una tecnica che è lo swinging l'oscillare da una parte all'altra lasciandosi andare lasciando andare gli occhi e secondo me è una buona tecnica se fate il giusto setup set and settings che vi dicevo prima del problema potete usare anche quella ripeto questa è gratis anche quella per azzerare i sud dovete sapere quale sono sono le subject unit of distress che usiamo che abbiamo usato anche nelle ft che si usano un po in tutte le tecniche che è una valutazione soggettiva iniziale di quant'è l'intensità emotiva e dopo aver provato e anche lì provate qualche minuto oscillare e verli tranquilli e vedete come come dopo però questa tecnica è assolutamente la più efficace perché assolutamente la più naturale fisiologica per calmare qualsiasi mammifero agitato e per cui funziona lo usiamo sui nostri gatti lo usiamo sui nostri amaticani e tutto quello che avete in casa e ed è importante perché oggi sappiamo che rimuovere questi encoding traumatici quindi non ha solo a che fare con il guarire a livello emotivo e a livello del sistema immunitario ormonale che sono collegati ma anche soprattutto a prevenire e sappiamo che varia anche una parte ancora poco studiata abbiamo mappato il nostro genoma ma stiamo ancora mappando il nostro epigenoma ovvero come il nostro comportamento le nostre abitudini il nostro pensiero il nostro ambiente esteriore e interiore e tutto il resto agisce sulla manifestazione del nostro caratteristiche genetiche come alcuni aspetti vengano sedati e calmati quindi tecniche non più energetiche ma oggi chiamate psicosensoriali molto meno strane perché sono state studiate oggi si sa di più della neuroscienza ripeto è stata guardata la struttura biologica la biologia con gli con gli fmri e la parte chiamiamola pure energetica ma in realtà è elettrica con l'elettro appunto encefalogramma le g per cui può essere usata in in tanti 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 aspetti può essere usata questa queste tutte queste tecniche per il per il cambiamento appunto tranne le eccezioni in cui c'è l'ossessione ecco perché ho creato quella che io chiamo la css da costruire una storia di successi che se non conoscete il mio lavoro è molto semplice si tratta di fare una lista di tutti gli eventi passati le cose che ci danno fastidio su cui vogliamo lavorare con queste tecniche psn quindi specifiche e metterle in ordine poi graduarle da quanta intensa da 1 a 9 10 quello che vuoi 0 10 quello che vuoi e partire da quelle più semplici 1 2 eccetera in modo che quando si arriva comunque quella per cui un ossessionato si è già una grossa pratica si è già ridotto tutto si è già distorti dall'ossessione per cui ci sono più probabilità che uno riesca a risolvere poi ovviamente se uno non riesce da solo in qualcosa abbiamo comunque una parte di neuro coaching in cui ci si connette via videoconferenza con una persona e si può aiutare poi ci sono diversi professionisti praticanti che abbiamo in lista che che usano queste queste tecniche non ne cito adesso nessuno perché poi mi dimentico sicuramente di di qualcuno che non cito da un po anzi se siete nella mia lista in hna siete psicologi psicoterapeuti eccetera mandatemi un veloce messaggio al mio indirizzo personale o quello dell'assistenza in modo che vi so che ci siete anche voi per cui dovunque ci sia un encoding traumatico come viene chiamato un punto in cui la migdra si riattiva con un pensiero ecco che si può lavorare specificamente anche da soli ho fatto anche un audio di neuro coaching a cui aggiungeremo qui la parte di questa tecnica appunto della carezza che ripeto è il più veloce la più fisiologica di tutte quindi consiglio di provarla prima del dell'eft magari si parte sempre dal respiro onda quello che ho creato che è un'antica antichissima tecnica che presenti in tutte le tecniche meditative però ho creato la mia versione secondo me più semplice più efficace eccetera e ripeto può essere applicata provatele comunque questa tecnica su tutto quindi sul dolore fisico sul su qualche sintomo se avete un inizio di influenza su cose psiche fobie memorie rotture rotture diciamo sentimentali perdite imbarazzi assalti ovviamente l'ho provata su me stesso prima di proporla a voi l'ho provata anche su una cosa importante non ho seguito il css perché oramai raramente devo dire uso queste uso sempre tecniche generalizzate tutti i giorni senza mancare una pratica meditativa da oramai dico trent'anni ma realtà sono sono di più e provatelo su tutto quindi sulla rabbia sulle paure sui lutti ecco l'ho provata su una di queste cose devo dire che ha funzionato molto bene insomma avevo comunque sogni ricorrenti che erano anche un po un po fastidiosi sono diventati sono spariti dopo pochi secondi di pratica e quindi questo mi ha convinto non ci avevo fatto altre tecniche ve lo dico però dovevo provare su qualcosa non sapevo provare quindi provatela e sui cravings sui mangiare motivo eccetera e è una tecnica interessante allora attenzione la tecnica si chiama come detto avening originale la versione che propongo è la è la mia questo perché devo ribadire hanno messo copyright hanno messo cose certificazioni eccetera io non voglio essere certificato con nessuno perché certificarmi è solo è solo spesso queste certificazioni impongono dei limiti su quello che vuoi fare io non voglio avere avere limiti per cui ci vediamo dall'altra parte dove vi parlerò per chi vuole della scienza dietro questa tecnica velocemente con questo stile molto rapido e poi soprattutto parleremo di i punti del corpo di una ricerca sui punti del corpo e le percentuali di l'aumento di onde delta in base alle parti che secondo me è molto molto interessante questa ricerca a quel punto faremo la preparazione alla tecnica che in quella originale non esiste l'ho creata io ma secondo me è importantissima e poi vi farò la parte guidata una volta capito spiegherò l'algoritmo di questa tecnica vi farò la parte guidata devo dire che questa tecnica la avening è stata dimostrata da tanta gente anche paul mckenna e secondo me l'hanno complicata ecco quando si complica una una tecnica secondo me è come dire usata in quel modo non funziona in realtà vi vi spiegherò anche bene perché la tecnica base e poi in caso come introdurre delle parti opzionali che io metto come opzionali se non dovesse funzionare il metodo più semplice dato che ci vogliono minuto un minuto per per farla tutta non ha senso partire con una cosa super complicata e se non serve ecco quindi mi concentrerò solo sui due aspetti fondamentali che funzionano bene di questa tecnica alla base la carezza è un'altra cosa è proprio posso regalare tutta e poi introdurrò anche tutto il discorso delle delle parti opzionali il tutto con una fase preparatoria quindi un audio che vi vi spiega come prepararvi come trovare quello più adatta a voi cosa che loro non fanno ecco perché dico questa è la mia di tecnica la psn alla carezza non è la avening technique e poi la pratica vera e propria che potete usare una volta fatta bene la preparazione in veramente secondi su su tutto quello che volete vi spiegherò anche come usarla in in positivo varie varianti se ho tempo se avrò tempo ripeterò il protocollo oppa se no andate sul mio sito migliorati.org prendetevi il percorso arancione e c'è dentro tutto quello che fate sull'argomento aggiungo solo che dopo di questa ho creato questa è mia non esiste nessuna parte anche se ultimamente ne ho visto delle derivazioni perché l'avevo condivisa su qualche forum specialistico inglese ho creato la braccia amorevole che è l'unica tecnica al mondo per farsi da soli quella che è la tecnica secondo me terapeutica più potente ma anche più complicata che richiede insomma una certa quantità di studio che è l'ipnosi regressiva vera vera è non quella roba che fa che fanno in certi corsi per andare alle vite passate fatta di gruppo che per me è un abominio come ipnotista che ha studiato con lo stesso insegnante di quello che famoso che fa queste cose che non condivido come le fa devo dire per me è un abominio non faccio nomi perché non voglio non voglio cause ecco jerry kane riposi in pace grande maestro purtroppo oggi i suoi corsi sono stati editati non esiste più il corso originale fatto io con solo lui e devo dire anche che nelle scuole secondo me non sono a livello del suo corso ho fatto tutto il corso come ipnotista come specialistiche ovviamente non mi sono certificato però ho imparato tantissimo era un grande ripeto riposi in pace secondo me il modo in cui insegnava era veramente magico forse il migliore insegnante da quel punto di vista che ho avuto veramente gli dava l'ipnosi dai superpoteri oggi la oggi la il mercato degli stati alterati del flow come si chiede flusso come si chiama oggi è una roba di triliardi se calcolate netflix videogiochi tutto il resto ecco diventare ipnotisti vuol dire essere in grado se altra persona ve lo consente non parlo dell'ipnosi per capirci quale ericksoniana quella indiretta quella della pnl parlo dell'ipnosi diretta consensuale vuoi essere ipnotizzato da me si procediamo ecco diventare dei capaci di fare questa cosa è la figata più pazzesca del mondo perché diventati a tutti gli effetti delle macchine da stati alterati per l'altra persona potete indurre qualsiasi stato volete anche stati che non esistono anche stati oggi c'è un grosso risorgere di di queste droghe di questi degli allucinogeni anche nella terapia posso accetto che in certi contesti siano necessari cioè quando tutte queste cose fatte da uno capace guardate che ce ne sono in giro pochi però fatte da uno capace non funziona niente si può ricorrere a queste cose tenendo conto che quando è che tra l'altro vengono abbinate a delle forme blande in in audio di di ipnosi altrimenti senza setting setting approvati è solo trippare solo sballarsi che porta solo a dipendenza e problemi ricordatevi che per usare una metafora un po stupidina ma una volta che prendete un cetriolo e lo mettete sotto aceto non riuscirete più a riportare il vostro cetriolo uguale vostro cervello a come era prima ecco solo per una metafora un po sciocchina ma per farvi capire che non sono a favore se non in casi estremi appunto in cui serva di dipendenze serie problemi seri di in cui tutto il resto non ha funzionato fatto appunto da operatori capaci allora a quel punto sono d'accordo all'uso delle droghe come strumento terapeutico perché non ci sono più alternative però per fortuna abbiamo delle alternative che sono sane sicure e ripeto è la cosa più più figa è che se uno diventa veramente un ipnotista per ipnotista intendo stile giuca scasella ma fatto in campo di anche di intrattenimento personale guardate se c'è una cosa che nella mia vita ha fatto tornare più fidanzate con livelli di vicini al cento per cento dopo un po tornano sempre è proprio l'imparare l'uso del dell'ipnosi in campi personali purtroppo ripeto oggi ci sono insegnanti validi ma non sono a livello del grande maestro jerry king che voglio onorare anche nella memoria però qui parliamo di una tecnica molto più semplice molto più alla base funziona bene e ripeto se poi volete approfondire nel percorso arancione c'è la versione base spiegata bene intermedia del mio abbraccio amorevole che al momento al mondo al mondo non è stata ancora tradotta ma fra un po le intelligenze artificiali riusciranno a fare le traduzioni come simultanea anche degli audio quindi suppongo che il mercato inglese si aprirà acquisterà anche quel prodotto quindi arriverà una nuova ordre di clienti che usano i traduttori automatici perché secondo me appunto è una tecnica molto efficace per andare molto a fondo e farlo da soli in modo sicuro in modo semplice in modo amorevole appunto gentile verso se stessi mentre vi dico già che la vera tecnica originale di ipnosi regressiva non amo farla la faccio raramente l'anno scorso l'ho fatta una sola volta su un'amica come regalo di compleanno e le ha cambiato la vita perché quasi sempre per togliere quella spina fa un po male ecco fa un po male c'è sempre pianto muco poi ti vogliono sempre abbracciare quindi mi sporcano sempre la camicia per cui se posso evitare di fare la vera ipnosi ipnoterapia regressiva la evito ecco e però c'è un modo dolce delicato per farlo su se stessi e vi invito a esplorarlo conosce anche perché per adesso devo dire che i miei prezzi saliranno perché essendo sul sito questi percorsi avendo fatto l'offerta solo per quelli che ne ha devo ci devo attaccare qualche qualche numero davanti ma per adesso hanno un prezzo troppo troppo basso e va bene così e questo è tutto spero di avervi dato una buona introduzione delle idee su queste tecniche delle cose da applicare ammetto che sono stato un pochino tecnico e veloce e quindi se mi avete seguito avete capito tutto quello che ho detto complimenti e vi invito a lasciare qualche commento se non siete d'accordo fortemente opposti eccetera vi invito a lasciare il canale se invece lo trovate interessante iscrivetevi seguitemi su instagram seguitemi su youtube attivate la campanella mettete i pollici in su aiutateci con gli algoritmi di ricerca per rendere un po visibile ecco quindi mettete i cuoricini mettete le cose e così ci sarà sempre roba più interessante anche per chi in questo momento magari non vuole investire in se stesso non vuole investire in questa formazione alle sue ragioni eccetera eccetera un grosso abbraccio spero di vedervi nella parte commerciale di hna dove c'è il compresso completo altrimenti come sempre ci sentiamo su sul canale dove mi ascoltate sul podcast siamo su spotify siamo su soundcloud siamo su apple siamo su apple lasciate le vostre recensioni ripeto positive perché non non ha senso secondo me se non risuona con voi trovate altra gente c'è in giro tanta gente brava c'è in giro gennaro romagnoli manuel mauri tante tante persone anche decisamente più popolari sui social di me quindi seguiteli se se risuona con voi se non trovatevi la formazione come dico sempre che vi meritate un grosso abbraccio ciao e alla prossima ciao